Buonasera, una collaborazione artistica per questa nuova edizione del Salone del Mobile, come è nata questa iniziativa? Diciamo che è stata un'iniziativa che è nata un po' da sé, dato il grosso feeling che c'è tra Meriding, le nostre creazioni e le opere di Sofia. Tutte e due vogliamo trasmettere la stessa idea di femminilità, un po' eterea, ma comunque di carattere e di sostanza e quindi questo connubio è venuto un po' da solo. Come ha deciso di interpretare un po' lo stile di Meriding attraverso le sue opere? In realtà è venuto il passo prima, nel senso che loro mi hanno scelto e io poi sono venuta qua, ho visto i vestiti che fanno e ho trovato eccezionale questa cosa, appunto per questa ricerca della pulizia nell'essenzialità della forma, che è quello che io un po' ricerco attraverso il mio lavoro, diciamo una forma classica ripulita che punti a un'emozione diretta senza bisogno di tanti elementi descrittivi dietro il quadro. Si può dire quindi che l'arte e la moda siano complementari in qualche modo? Sicuramente sì perché sono due forme d'arte che privilegiano la creatività e l'emozione, sia quando ti vesti, sia quando metti un quadro in casa tua o lo osservi, lo fai per un motivo e lo fai per un'emozione, quindi diciamo che è un bel connubio e è sempre una forma di bellezza e quindi noi privilegiamo questo, in questa collaborazione tra Sofia e Meriding e speriamo che possa magari, perché no, esserci anche un futuro. Ah, magari quindi per il prossimo anno, oppure magari una collaborazione a livello anche di vestiti? Ma magari sì, perché no, perché comunque siamo tutte e due dello stesso genere e ci siamo trovate bene in questa piccola cosa, quindi perché no. Fino a quando le opere saranno esposte, quindi nel negozio, quindi ricordiamo che siamo nella boutique di Via Manzoni, quindi fino a quando rimarranno? Sì, per tutto il salone sono presenti da lunedì e rimarranno fino a domenica, quindi per tutta la settimana potrete trovare le sue opere, potrete venire a visitare la nostra boutique di Via Manzoni che è sempre aperta a chiunque e siamo un marchio nuovo che vuole farsi conoscere. E devo dire che le persone che per ora sono venute a trovarci hanno apprezzato molto e sono rimaste soddisfatte, perché il nostro comunque è un prodotto bello, di qualità e di alto design. Adesso mi rivolgo all'artista, quindi in quanta artista e in quanta donna, cosa le piace particolarmente dello stile di Meriding? Beh, mi piace questa eleganza classica, pulita, questi colori non pasticciati, perché poi è quello che ritrovo nei miei lavori che ho esposto qua. Grazie mille, grazie a lei. Grazie.